Ora la cronaca che ci consegna purtroppo un incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A25, Pescara Roma, nel territorio comunale di Cepagatti. La vittima è un autotrasportatore di 52 anni di Bari. Secondo una prima ricostruzione, l'autista era sceso dal suo automezzo, probabilmente per controllare un'avaria, quando è sovraggiunto un altro mezzo pesante che ha tamponato il suo camion. L'uomo sarebbe stato investito dal mezzo tamponato. Alcuni automobilisti in transito hanno lanciato immediatamente l'allarme e sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pescara con tre automezzi. Si è reso necessario l'intervento anche di un elisoccorso. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'autotrasportatore.